Nella cornice della Rocca Malatestiana di Fano sono state presentate le iniziative estive del progetto Torno entro le 6, nato dalla coprogettazione dell'ambito territoriale sociale 6 con alcuni soggetti del terzo settore. Tra queste torna il concorso musicale ambito music contest rivolto a giovani emergenti in programma il 12 luglio, poi l'11 luglio, l'appuntamento dedicato ai DJ con l'ambito DJ music. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno alla Rocca. Infine, novità di quest'anno, la prima edizione del torneo di calcio A5 che si svolgerà al Donorione di Fano il 6 e 7 luglio. Con Torno entro le 6, proposta nata da una coprogettazione con diversi soggetti del terzo settore, capofila la cooperativa Opera, poi coinvolge l'associazione Bobina Network, l'istituto Donorione con l'oratorio e altre associazioni. Per sintetizzare direi l'obiettivo è quello di valorizzare il talento, l'estro, la voglia di protagonismo dei giovani tra palco e realtà o meglio la possibilità di salire sul palco con l'ambito music contest che la seconda edizione quest'anno raddoppia perché non è solo per i gruppi musicali ma anche per i DJ, ma poi c'è la possibilità anche appunto di scendere in un campetto da calcio per un torneo e quindi ecco e poi tante altre iniziative sono finalizzate a promuovere anche il talento, il protagonismo, il coinvolgimento dei ragazzi e degli adolescenti. Per iscriversi ed avere informazioni dove è possibile rivolgersi? Le informazioni si possono trovare sul sito dell'ambito, ambitofano.it, ma poi anche la possibilità di iscriversi e aderire a queste iniziative anche sul sito di Bobina Network e poi anche sulle pagine social sia dell'ambito che di Bobina Network oppure anche della cooperativa Opera. Però ecco ci sono davvero tante occasioni per i nostri giovani, i giovani di tutto l'ambito, dei nove comuni dell'ambito per valorizzare la loro voglia di protagonismo e quindi anche creare con loro tante opportunità di svago, di divertimento e di coinvolgimento. Infine numerose saranno le attività al Centro Gas Gas di Fano dedicati a preadolescenti e adolescenti. 18 incontri laboratoriali dal 22 giugno al 10 agosto, tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 20.